Oikiko da Maslunga, l'espo c'è la massa, son qui da sei ore, non ho visto una mazza, mi conveniva andare a Hong Kong. Ci son coppie che si son sposate qui in fila, e che nell'attesa han fatto una bambina, che adesso si iscrive in prima elementà. Io, in coda come un barbone, vedo laggiù un padiglione, mi sembra sia del Giappone. Per vedere il video di un tonno, lo vedo su Sky con il nonno, guarda lì il padiglione francese, era meglio se andavi a Parigi a tue spese, ed invece stai in coda qui dalle parti di Roo. Se a questa esposizione cambiassimo il senso, che da nutrire il pianeta diventa portare pazienza coi crampi e dolor. Se venivo qui a giugno, non beccavo la coda, sono venuta d'ottobre, Ero attratto proprio dalla coda, potrò dire, ho fatto la coda. Torno a casa e so tutto, non tanto sul cibo, ma sulla reazione che c'ha il corpo umano, in fila per ore sul decumano, che bello il decumano, adoro il decumano.